però ho imparato a mangiare ai tempi 40 anni hai parlato a mangiare di aprire la bocca e muovere le mandibole non mi fate se ci sarai puoi sparare per amore del gelo cazzo mangi e poi ecco dai dai giù e dai to girando lo tiro da chi è no 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 non ho più da mangiare si manca poco vado a vedere le assi non ce la farò mai l'era dall'altra parte ai che affondata e va bene però se ne fa adesso ma adesso la rare pre pietabile loot di flema volevi uccidermi e sei morto